Ciao a tutti ragazzi, io sono Artifex e benvenuti in questo nuovo episodio della Ultimate Hardcore L'ultima volta che ci eravamo incastrati in questo buco uno per uno Ho preso un po' di legno fuori Ed è notte, probabilmente Da qua si esce, da qua si esce pure E non è una cosa buona uscire E da qua invece Facciamo così, così, perfetto E da qui invece si va nei territori sconosciuti Allora, facciamo subito una work Un tavolo da lavoro Probabilmente non mi ricorderò più dove si trova casa Però vabbè, queste qua non sono le cose Sono cose superficiali Avevo 3 di ferro, così, random Certe volte proprio mi sento realizzato nella vita Perché avevo 3 di ferro nell'inventario? Non lo so, non lo so Comunque ho controllato anche il crafting della palla di slime e corticella Che ho registrato quasi subito dopo il... Lo scorso episodio, ecco E... Ok Dopo questo direi che possiamo esplorare qui dentro Non mi piace esplorare qui dentro Le torce ce le abbiamo La spada no Facciamoci una spada in coble E... Forse questo buco non era adatto Ehm... Facciamo uno qua e uno qua Sticchetti ce le abbiamo Oh, gappa Possiamo andare Allora, camminiamo piuttosto parati Che cazzo c'è? Non si può sapere perché non riesco a passare Allora Piano di sopra Ah, c'è piano di sotto Non c'è nulla Oltre a una porta bloccata Ma questo già si sapeva Dato che era semi interrato nel terreno Come diceva la mia profezia Anche qua sopra è piuttosto chiuso Bello come base però Faccio una bella base secondaria Ehm... Vabbè Scendiamo Metto Metto l'audio un pochino più alto Opzioni Suono Ok, perfetto Qua sotto ci sarà il finimondo Uno lo sento qui sotto O qui sopra Dipende Ne sento però piuttosto Piuttosto tanti Aia Non l'avevo visto E basta Ah, pollo Ce l'avevo visto Però dico di smantellare proprio tutto Tutto qui sotto Tanto Oddio quanto ferro Dio del ferro Anche tante ossa Le ossa mi servivano Questo qua lo posso togliere E allora A casa mi porto La cesta Perché è utile Il dispenser Perché ovviamente A sua volta è utile pure Questo lo metto qua Direi di portarmi anche tutta la redson Che c'è Questi qui Sì Diciamo Smantellare un po' tutto Anche perché con quello A poi ci legherò i cavalli Quindi Non fa più Ok Ok L'abbiamo preso Tanto E qui Pure Certo Oddio quanti rami Ma c'è uno spawner Di ragni sopra di me Ok Dov'era? Qui ce n'era uno Qui metto uno di questi Qui metto uno di questi Ed è come nuovo Mi rinanza uno No per essere Perfetti Vabbè Lasciamo stare Così è perfetto Ok Andiamo dall'altra parte invece Dove c'è la sezione proibita Proviamo un po' di combinazione A random Lol Proprio Così semplice Dove si è aperto Dove si è aperto Togliti Qua no Si è aperto Da qualche parte No Potrei semplicemente Distruggere come un vandalo Però preferisco Ok Così Una l'ho aperta Ok Così Dovrei Averle aperte Tutte e due Giusto? Giusto Oddio Un'armatura in diamante Il mio screenshot potrebbe essere su questa armatura Queste cose me le porto Tipo questa chest Mi piace veramente tanto Anche se Oh Anche questi blocchi mi sono carini Qui ci dovessero anche ossidiana da qualche parte Non è piccone Quindi Non mi serve I pistoni I pistoni pure Me li porto Sono importanti Ok Perfetto Eh Risaliamo in qualche modo Risaliamo con questi blocchi Guardate Mi sono fatto Un casino di ferro Un casino di oro Un'armatura in diamante Per il cavallo No ma secondo me c'è veramente uno spawner di ragni Comunque Direi di non andarmene Perché è notte E' piuttosto Brutto qua fuori Direi di cercare piuttosto Anzi cosa Lo spawner di ragni Che a sinistra Almeno ci intratteniamo in qualche modo Vedete C'è uno spawner di ragni Ciao Ma Oh Io non dovrei parlare così Ho un pubblico di minorenni Vabbè anche io sono minorenne Oltre a questo Però Mi servivano I ragni Prima Ecco qui i ragni Perché non ho la spada con saccheggio O flaggello degli artropodi La spada che ho in pratica nel multiplayer con dami Ve ne andate Siete decisamente troppi Poi guardate Trovare così tante mostone In un colpo solo Non è così semplice Oh Mega Mega frizz Boh Eh Boh Io come sto facendo un po' di drop di ragni Aia Aia Vai via Basta Sto scaricando anche FIFA 14 Guardate quanta bella esperienza Oh Ho trovato Un'altra armatura in diamante Non mi dire Sì No Non ci credo E anche una name tag Per rinominare il cavallo Disco musicale Direi che mi sono fatto una bella scorpacciata Andando qui Allora Che cosa posso? Uno sticketto I funghi I funghi forse non ce li ho quelli rossi Quindi non li poserei Legno Legno La cosa è piuttosto imbarazzante Ho troppe cose importanti Ma non ne posso lasciare Ho terra Terra è piuttosto stupida Due in diamante Una in ferro Una in tag Che metterò a posto di Tre sapling Disco musicale Che metterò a posto di Una zola di terreno Un altro po' di Disco musicale Che metterò a posto Delle uova Attenzione E Nove di coble Oddio ma c'è ancora un'altra cesta Una sella Almeno la sella l'abbiamo trovata Ho fame Quindi mangerò Due panini Nel frattempo Esattamente uno Me ne mangerò Oh maledizione Non ho più Non ho abbastanza spazio Faccio così Faccio un altro panino Questo lo butto Mi sono fatto altri due di spazio Attenzione Ce la potremmo fare Mi prendo Il secchio No Non mi serve Disco musicale Disco musicale Sono gli stessi dischi Però me lo prendo per souvenir Qui ci sono Tre libri E tre libri Sono utili Gli occhi di ragno Sono utili Quindi poso Quindi poso Le frecce sono Più utili che altro La mostonna di tutta La volevo prendere Mamma mia Il vetro è importante Le torce sono importanti Il red Ok No Direi di no Anche se sono facilmente Craftabili Quindi Fa 13 Ma qui Ho postato Tutte le cose Inutili Ok E mi dovete scrivere Nei commenti Se con un piccone Con silktouch Riesco a prendere Gli spawner Anche dei mostri Che così Risolvere il problema Aspettate Prendo tutta la mossa Stone che apposso Così Così siamo a posto Rumbo 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 Grazie a tutti. Sì, eccomi, scusate per l'inconveniente. Cioè, entrano nella stanza, non vedono che è tipo... Sto parlando da solo perché sto registrando. Ma loro continuano a parlare. È pure forte. Vabbè... Ma... Cosa ci fanno delle... Ormai non mi chiedo più niente su Minecraft, andiamo. Da dove si esce? Ci siamo portati, in poche parole, Molta, molta, molta... Mostone. Vi direi di segnarmi anche le coordinate. Ok, segnate in questo momento. Almeno qui ci potrò fare qualche cosa di utile. E allora, andiamo dai cavalli. Cerchiamo di domesticarne qualcuna adesso che possiamo. Sì, grazie, cavalli. E adesso non mi ricordo più la direzione che avevo preso. Eh, perché è stato una mattina fa. Cioè, questa mattina, però... Non mi ricordo più. Forse era da questa parte. Se... Sì, sì, infatti. Se la memoria non mi inganna. E ciò mi inganna molto spesso. Però... Dovrebbe essere da questa parte. Con i mega frizz della giungla. Riusciremo a raggiungere i cavalli. A domesticarli. E gli riuscirò pure a mettere una name tag. E pure un'armatura in diamante. E... Oddio, stavo per cadere. La terra ne ho, tipo, a quintali. Eh, ma riusciremo a salire prima o poi nella parte alta della giungla. Eh, riuscire a... A ritracciare. Ahia. Un'uscita. Dovrebbe essere verso questa parte. Sto facendo un percorso alternativo, secondo me. Allora. Eh... Qua siamo piuttosto alti. Che io riesco a vedere un po' tutta la panoramica giunglesca. Ok, ok. Ho trovato, ho trovato... Ho trovato sia... L'uscita della giungla. Che quindi l'uscita per casa. Perché poi è tutto semplice. Invece mi preoccupo dei villager. Perché volevo fare la farm di ferro. E ovviamente portare i villager di questo villaggio NPC vicino a casa è piuttosto impossibile perché c'è una giungla di mezzo e non ho tutto questo rotaio da consumare. Quindi lasciamo stare questo villaggio. E ci pensiamo ancora dell'altro. Allora... Eh... Ma c'è... Allora... Ok, ok. Eccoli là i cavalli. Prenderò i cavalli più belli e me li porterò a casa. Potrei cavalcare anche con il cavallo per andare a casa, ma non penso che gli altri cavalli mi seguano. Perché ho questo problema di legno? Ho sempre il problema del legno, non ho mai legno. Direi di addomesticare un cavallo. Almeno già ce lo portiamo addomesticato. Così almeno abbiamo un pochino più spazio. Quanto fili ho di ragno? Abbastanza. Ne riesco a fare... Quattro. Quindi mi vengono perfetti. Ne riesco a portare tutti. Io avrò tutti questi cavalli. E li attaccherò tutti in un coso. Allora... Uno, due, tre. Quattro. Quattro, quattro. Cosa? Ho sbagliato i miei calcoli. Erano per quattro... Quattro per quattro, sedici. Vabbè. Riusciamo a fare tre. No! Ah, me ne danno due ogni coso. Perfetto. Ah, l'abbiamo risolto. Questa work? Allora. Addomestichiamo uno dei cavalli più figli. Ah, tu sei mezzo ne... Mamma mia, ma non sei tutti brutti. Tu... Tu... Tu sei più figo di tutti, fino a... Tu sei brutto. Proprio brutto brutto. Tu sei peggio dell'altro. Allora mi direi, ma quello è proprio brutto. Cazzo che cavalli schifosi che ho trovato. Alla sotto c'è un altro. Vabbè, tu fai schifo direttamente. Vabbè, direi di addomesticarmi allora questo qua, cavallo. Quando la posso mettere alla sella? Oh, va bene, scusa. Gli ho dato un panino da mangiare. Addomestichiamo questo stupito cavallo. Oh, oh. Mamma mia. Spettacolo. Spettacolo. Artiscio, artiscio. Oh, ora dovresti smetterla però, eh. Quando ti spuntano i cuoricini? Ok, ok, gli stanno spuntando. Se non ti faccio qualche carezza. Ti faccio qualche carezza? Ti sei domesticato? Siamo compari? Non sono spuntati i cuoricini, quindi mi potresti anche buttare. Ok, siamo diventati amici. Oh, ah. Ok. Tu sei mio. Mamma mia. Che potenza in assoluta. Ti devo fare uno screen. Ti faccio uno screen così. Allora. A te ti lego. Ho i cavalli e non posso neanche utilizzarli. Ti lego. E siamo a due. A te ti lego pure. E siamo a tre. A te ti lego pure. Oh, a te ti lego. Siamo a quattro. Ma non mi dici che ne sto perdendo in giro? Quattro. Ok, ok. Ho quattro cavalli legati. Mi sto facendo prendere dal panico. No, no, lo screenshot ci vuole qui, altro che... No, è brutto fare uno screenshot in movimento. Ho una mandrile di cavalli. Dietro di me. Un attimo. Ok, andiamo. Io sto tenendo il coso proprio nel vuoto. Io tengo i cavalli legati a una spalla. Sì, ma portarmi lì in una giungla, questi cavalli, sono fottuto. Sta facendo notte. C'erano delle pecore. Direi di farmi un letto momentaneo. Non arriverò a casa vivo. State nei certi. Comunque, trovare quelle dungeon è stato veramente la mia salvezza. GG. Eh, GG. E tu mi dai anche la lana? Ritorniamo nello stesso punto di prima. Forza cavalli. Forza, non mangiate, non mangiate. Forza, veloci, 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 veloci. Perché c'è quella carne di zombie? Là non mi piace. Entro oggi, entro oggi. Sbrigatevi, sbrigatevi che l'episodio sta per giungere a termine. Sbrigatevi. Dovete sbrigarvi. Il prossimo episodio sarà pi... Sarà piuttosto brutto. Ok, ok, eccola, eccola. Non ho legno! Questa terra è mia. La riavrò. Ok, ok, ritorniamo. Non mi seguite tutti. Esploderò, esploderò, esploderò. Dov'è il mio pezzo di legno? Ritornata, ritirata, non ritornata. Dammi il mio pezzo di legno. Andiamo di nuovo lì. Non facciamo spawnare nessuno nel frattempo. Cazzo, me la sto vedendo piuttosto brutta. Do quattro cavalli al seguito. Siete troppi. Mi fate dormire. No, no, no! Cosa sta facendo quel cavallo? Scusate. Scusate se mi voglio riprendere il letto. E voi ci dovete saltare di sopra. Comunque, per questo episodio è tutto. Ci vediamo? Oh, aspettate. Devo farlo. Sì, posso? Andiamo. Niente, volevo fare qualche cosa di stupido. Ma non dire che questo sia l'episodio adatto. Allora, per questo episodio è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio nella Ultimate Hardcore che uscirà in un episodio in una giornata sconosciuta. Ciao, ciao!